sempre di più la pratica dell'innesto diventa di fondamentale importanza per affrontare le problematiche legate ai patogeni del suolo e gestire al meglio le coltivazioni per questo rexvan concentra parte delle sue risorse alla ricerca del giusto portainisto per soddisfare le esigenze di vivaisti e produttori ma vediamo cosa garantisce rexvan al vivaista elevata germinabilità eccellente uniformità e velocità di levata per ridurre al minimo i tempi di produzione ed incrementare la percentuale in piante utili ed infine alta compatibilità e facilità di innesto per aumentarne il rendimento insomma rexvan si impegna per garantire l'ottenimento di piante di alta qualità vediamo invece rexvan cosa garantisce al produttore l'apparato radicale ideale il motore adeguato per affrontare tutti gli stress abiotici dotato delle resistenze necessarie per mettere in sicurezza il raccolto il corretto bilanciamento tra la parte vegetativa e generativa della pianta scegliendo la combinazione ideale tra nesto e portainisto il giusto vigore per qualsiasi tipo di ciclo in base alla struttura del suolo e il tipo di serra disponibile una migliore gestione delle produzioni in termini quantità e qualità insomma rexvan offre una soluzione ad ogni tua esigenza grazie ad un'ampia gamma portainisti per avere un consiglio su portainisti da utilizzare puoi contattare il responsabile rexvan della tua area oppure prova a seguire con noi la route map devi coltivare la tipologia pomodoro ciliegino ed effettuare il trapianto a settembre hai un elettro conducibilità maggiore di 2500 microsiemens centimetro e deve affrontare un ciclo lungo ok allora scegli il portainnesto suzuka rz suzuka rz una delle ultime novità della famiglia portainisti rexvan suzuka è un portainnesto forte adatto a cicli lunghi in suolo e fuori suolo è particolarmente consigliato per tipologie di pomodoro a frutto piccolo come ciliegino datterino e midi plum suzuka è un portainnesto di alta vigoria ma che riesce a mantenere un buon equilibrio vegetativo generativo e un'ottima pezzatura e colorazione dei frutti suzuka con piante aperte sane con un completo pacchetto di resistenza ai patogeni del suolo riesce a garantire elevate rese durante l'intero ciclo produttivo portainnesti pomodoro rexvan elevate rese in piante utili in bivaio migliore qualità e quantità delle produzioni un'ampia gamma per ogni esigenza scegli rexvan inizia col piede giusto grazie a tutti